Fine 22 mi piaceva A me fine 22 mi era piaciuto Vai vediamo se sto 11 scemi dalla liga Olè Oho Olè Festa 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 Ma datti in petto Mortacci tua A uso va prio Dov'apro Non puoi perché è impossibile mettere i pick Ah è vero i pick non li mettono più E il 21 per me è in assoluto Il peggiore in assoluto Il 21 no giocavo proprio E' bianca si Germania TD Wow Pick impossibile da inserire Zero pick in due mesi di tots 20 euro per Lam doppione non scambiabile Beh però è prime no Buono Dai 11 giocatori la liga Vai Ora mi ha dato rush in pressito Ah Ma da questi In che senso scusa La sensio dall'1181 Non ho capito Cioè che C'è sta Se è buggato C'è sta uno più forte sotto 11 giocatori la liga Ma sarebbe pure Vedere che ne so Avicava lan Però dice Ho trovato un tots Capisco Capisco Ci sta Vabbè Walkout Buono no? Molto buono Ma Simon Non gliene frega più un cazzo A nessuno Dalla serie A Ah Ah Oh, ha mutato una carta speciale Hai capito? È incredibile Dove è cosa che ho visto ieri? Mamma mia che scesso Rugrazia 17, ben tornato 11 e Prime Gaming Vai, apri il Prime Gaming Ha preso, ha preso Che se l'ha messa là così, però ha preso solo qua Grande Gacchepoo Ma che l'ha lì, meno male Ha 10 partite Pica, vabbè, fa bigno, buono Ziac, buono Ma guarda, ti posso dire, ma appena hanno fuori così ci firmerei Cioè, esattamente Sarà tutto o niente, quindi, il prossimo anno O giochi il top o giochi niente E vabbè, pazienza Belli canottari qui Yoshi Oggi andiamo a parlare di Sky Coach La piattaforma leader per quanto riguarda i servizi in game E uno dei servizi migliori in assoluto È quello che riguarda i crediti di FIFA Dove sono loro estremamente affidabili Con una consegna estremamente veloce E al miglior prezzo sul mercato Per tutte quante le piattaforme Con un ottimo servizio di cashback del 5% Ed inoltre Con il link con lo sconto del 10% Che vi lascio in descrizione Detto ciò, fatene un buon uso Io vi mando un bacione E ciao Ma sei sicuro? Forse coni Ma sei sicuro? Io devo apro però Onestamente Una bella Cioè, una bella crepa Buf Io devo capire il senso del pacco Cioè, butra che gnomida per 20 euro E il prestito di Un film horror questo Cioè, questo ti fai Mamma mia che paura Ma poi manca un walkout È chic sotto Per quello che ti rifundano Perché tu dovrebbero rifundare Esce quello che c'è scritto Cioè, 20 euro pena mid Inizio gioco Magari chiede pure Cioè, dici Pure 20 euro pena baby Day one Certo, poi se me dà l'Hitman Per 20 euro Una più benissimo Però I picchiro fantasy Il pacco Il pacco di community L'hanno ridato, eh Io l'ho rivisto Però solo se Cioè, lo ridavano solo A chi aveva trovato Il community Mamma, è proprio questo Senti Tiè, beccate sto baggio Prime Ma va, sei contento? Facciamo dire, man Sì, è buonissimo Vabbè, questo Devo dire Un grande pacco Meno male Tavo un pensiero Poi, 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 poi Poi, 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 poi Andiamo su 11 la liga Magari troviamo un Giocatore forte Tony Gross Mi hanno ridato Cioè, ho trovato Danilo Tozza dentro Andiamo sull'11 la liga Sì, ho pagato 18 milioni 18 milioni Sì, hai ripreso i sorti Mi pare Più o meno Sei riuscito a ripialli Oh, Magomerino Vabbè, manco male Dai Fresh Fresh Grazie Ben tornato Ah, non si capisce Veramente Perché, boh 8 giocatori la liga Poi che c'è Emo 11 la liga Adesso, aprino 8 giocatori La liga Non si sbagliamo No, non si capisce Proprio che cazzo C'hanno in testa Manco felle Sì, pure felle Che poi Ancora più o meno Cammina Non è me di regalare carte Ma almeno falle Ste carte Cioè, oggi c'è stato I Tozza della liga Fammelo richelme Fammi musto voi Fammi tutti e due 5-5 Siamo felici e contenti No Poi non capisco Hanno lanciato Qua bomba De Bundesliga Un team della madonna Poi l'art Di mezzi così Mezzi scemi Poi alcuni in droppa N'arti droppano un po' De più Ti è becca adesso Che si va Modric Non è malaccio Modric C'è pure a due In un centrocampo L'ho giocato pure C-A-C Comunque Bel tiro Bella roba Non è male Oblak Sì Allora Te posso dire Io pure Chris Ma regalo ho giocato Però a quel prezzo Non c'ha senso Se lo trovi inoscambiabile Se lo trovi inoscambiabile Ok Però non mi è piaciuto Non Non mi è piaciuto Sinceramente 81 A Perché link a cocchiellini No lo so Luca Grazie Che bizza Ha dato Vabbè Vabbè Walkout È buono Voglio vedere i pick Che c'è danno Pure l'icona Voglio vedere Sono curioso Voglio vedere l'icona In prestito Che c'è da Zanetti Prime Buono Ah Giego Ma Vabbè Vabbè Picco 82 Smarrito Ma davvero Date Vabbè Ma che sciella Che te volevi Fatte a moto Vabbè Certamente C'è una partita secca Che decide L'esito Della stagione E daranno Tutto su quella Vinicius Semioni Un nome troppi A me quello che M'ha impressionato È Benzema Anche su Old M'ha veramente Impressionato Da qua pelle Grini Che cazzo ha fatto Arda che intervento Oh Buono Ronaldinho Prime In prestito Però Ti è 17 Partite